Oggi i partecipanti del laboratorio ArtClicks sono venuti qui, in questo posto, i giardini di Piazza Vittorio, per partecipare a queste passeggiate sonore di guide invisibili. Un progetto che prova e vuole raccontare la città e i quartieri di Roma attraverso le storie e i racconti delle persone migranti che abitano Roma. L'idea è nata all'interno di due associazioni, Laboratorio 53 e Echis, e abbiamo lavorato per un anno praticamente con un gruppo di 15 persone migranti provenienti da circa 6-7 paesi del mondo diversi. Questo progetto nasce dal desiderio e dalla volontà di provare a raccontare un nuovo discorso sulle migrazioni, un discorso che coinvolge i migranti stessi e che possa arrivare alle persone, ai partecipanti di ArtClicks anche, come un messaggio empatico che lavora sull'emozione e prova ad avvicinare due mondi che si immaginano diversi, quello delle persone che qui sono nate e quello delle persone che qui arrivano in questi anni.